Buonasera, non ho fatto la storia, devo fare la storia, ragazzi, devo fare la storia, datevi un secondo, faccio la storia Cosa dico nella storia? Nella storia di, stiamo, questa sera, nuovo giochino, che riguarda All On To Be Questa sera vi mostriamo la lunghezza, cliccate qui Non è quello che ho detto, però Mi sembrava un po' più catchy, però, come cosa, Marco Buonasera, buonasera Link, no, c'è già nel link, giusto Non c'è nessun link da dare Ciao Choxino, come stai, bello? Ciao Chox Trac Bello rivederti in chat No, no, le palle non... Anche perché la lunghezza delle palle è un po' Quella va con l'età, chiaramente Non ho detto nulla di sbagliato, no, chat Quindi, puntate il dito, voi che siete i primi Rompicoglioni Cos'è quel verso, Marco? Niente Tipo, church No, non so cos'è quella cosa che hai detto, ma non è niente Però stasera facciamo questo giochino particolare Vediamo un po' Come sarà Riguardo all on to beat, dobbiamo indovinare il gioco Anzi, la durata del gioco Da quello che ha detto Liu Anche il voto Ecco Le durate Ciao Chox Grazie Choxino Anche se noi siamo a pochi giorni dalle 18 Azzò Ora è il compleanno Allora, fatemi raccattare di nuovo il link In te lo dovevi fare le tre giornaliere No, no, ma se basta cliccare quel link lì Adesso ve lo streamo così vedete Quello che mi ciccia fuori a me Allora Condividi sterzo No E vi metto Bello questo Ottimo catcalling Max Wynn Ho azzeccato Vinto Non c'entra una sega Questo avrebbe bisogno di un remake Sì, vinto Vecchi Che cazzo ne so quanto duravano Adesso sono diventati tutti poligonali stupidi Adesso questi qua dovrebbero giocarle adesso Sono delle figate L'ho rifatto di recente chat, vero? Sono pazzo Lo stanno facendo il remake Eh, buono È vero che l'avevano detto poi la Rockstar Eh, buono, buono Che questi veramente va rifatti in alto E poi, quindi Fatemi Ma metto un po' di musichetta di sottofondo Se no siamo tutti silenti Non c'è la musica di coso qua Di Dick Picture Dick Picture? Sì, è un artista che conosco io Non puoi capire Ma Che c'è? No, no Eh, allora No Volume, audio Basso Audio, 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 audio Allora Cosa bisogna fare in questo gioco? Scrivere con la tastiera Mi sembra Eh Stiamo vedendo per venire di cosa fare Sabato cosa fare Eh, dicevo Dobbiamo Adesso non so se voi avete mai utilizzato How Long To Beat Qualcuno di voi Ma è quel sito È molto famoso Vi fa vedere la durata dei giochi E ve la divide pure in Solo trama principale La trama Più qualche Quest Secondaria E il completismo E robe del genere Quindi L'user rating pure Esatto No, l'user rating Non credo Cioè non penso Lo prenda da How Long To Beat Non so se c'è l'user rating Solo in How Long To Beat Forse sì Non lo so Vabbè Comunque Quello che dobbiamo fare Qui in questo gioco È Loro ci danno il gioco E dovevamo mettere i vari valori Ovviamente amici in chat Voi potete guardare Non lo fate Non andate a guardare Solo in How Long To Beat Metto i valori Ti dice Se sono più o meno vicini E robe del genere Spread Invece ti dà Una barra E ti dice I vari I vari Spade Adesso quello lì È più facile dirvelo Quando ve lo faccio vedere Comunque Max Payne Potre round Facciamone uno test Come sta Eh però Se io vi cuno Un power up Avresti Senza Allora Max Payne Me lo accollo io Vai Saranno Allora Saranno 8 ore Credo Ma in più sides Non ci sono Delle side quest Quindi io rimetto 8 ore Beh non fanno proprio uguale Ci sarà sicuramente qualcosa Che ti blocca Fai 9 Secondo me Ci sta 8 e 8 Completismo 10 Non mi ricordo Se c'era qualcosa Forse ti sbloccava La modalità difficile Alla fine Però se la main storia 8 10 Secondo me 10 11 Ci sta Proprio mettere 10 Perché ci può stare Ma Come voto Essendo un gioco vecchio È però Era apprezzato Io do Un 84 Io avrei superato anche il 90 No 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 Il 90 Non ce l'ha nessuno Non ce l'ha I 90 ce l'hanno proprio gioconi Incredibilmente Ma scusa ma Tanto sono 3 Infatti adesso Io uso il probe Anzi Uso lo spread Vedi Sono tutti più o meno uguali Vuol dire che Ok Quindi se Ora le faccio così 7 8 10 Perché sarebbe La main story La main più size È un pelo più lungo E questa qui Potrebbe starci Ok era 8 9 11 82 Pensavo Cadanese Grazie mille Grazie Cadanese Grazie mille Cadanese Grazie mille Io avrei detto 88 tipo Grazie Io avrei detto 88 Eh no ma ti ho detto Guarda che non sono generosi Cioè Non sono generosi E comunque sarebbe Un 8 e mezzo Ecco 80 Eh Quello era un 8 e mezzo Vero però Grazie Fosfolipide Metilato Grazie Sì solo di Sbagliato Però 82 punti Sono tanti Prossimo round Grazie tonnats E grazie anche pollo Io non l'ho giocato Ma posso provare Dai Grazie pollo Io ti dico 15 main story Grazie Non voglio leggere la chat Perché loro possono guardare Non voglio leggere Allora 15 main story Main più sides Io ti dico 20 Grazie Completismo Grazie grazie 23 Ma giusto per Fare un po' di più Questo è il primo E quanto gli dai Di voto 83 84 Dico io 83 Fai 64 È abbondante Vuoi usare Uno dei due Allora il primo Ti dà Uno delle cifre Esatto L'altro ti dice Invece Quanto possono essere Sbagliati E fai il secondo Fai il secondo Sono tutti sbagliati Questi Di tanto Mentre Il voto È più o meno giusto Allora Abbassa tutto Di 5 Fai 10 15 Fai 10 15 E beh io non l'ho giocato Quindi vado per memoria 10 15 20 Facciamo così X vuol dire Che è sbagliato Di tanto 18 Non so E non farei uguale A main Più side Sono Magari anche Menti E non lo so Io vado Invece Era molto più bassi Il completismo Che era uguale A main Più side Completismo Dai Era praticamente uguale A main Più side 87 84 Vabbè dai 119 Beh potevo fare peggio Per non aver giocato il gioco Eh non l'ho giocato Outer Wilds Gli Ezzar Il review Lo posso fare subito No? Sì sì Fai lo subito 17 ore La main story È che tagliata tanto questo Per gestirti poi sugli altri Particolare Outer Wilds Io non so quanto Allora Main più side Io direi 24 E 30 Il completismo No ma io c'ho il gatto Che si chiama Ori Ma perché l'avevano detto Su Instagram E Outer Wilds Gli è andato Secondo me non era andato Così bene Comunque No direi 85 Io almeno Da 80 in su 85 Vai Io avrei detto 82 No 26 Bestia 91 guarda Ma in main più side C'era quasi Anche completismo Dai c'era qua Dai ci sta Super Sonic Gotta go faster Va bene 196 su 300 Dobbiamo migliorare 65% abbiamo fatto Va bene Se può migliorare Eh ma ho riabbassato Burnout Sparta Se chi lo vuole Fallo tu Perché sulle macchine La remaster Di questa Quindi Non quello che è più Io l'ho giocato Burnout Paradise Ma io lo giocavo Ma l'abbiamo giocato assieme L'abbiamo giocato Io lo giocavo a caso Burnout Esatto Chi cazzo lo gioca Non mi ricordo neanche Che ci fosse la campagna Praticamente Tanto è uno dei pochi Che ho giocato di macchine Anche Vabbè Sì probabilmente è lungo Come completismo Un gioco di macchine Il solito sai Main Story Secondo me è comunque Un gioco vecchio I giochi vecchi Non duravano troppo Secondo me poca storia Ma è tanto completismo Un 12 ore No neanche Secondo me 10 10 Sì 10 Main Non guardate la chat Se vuoi usare Revial Usalo subito Facciamo che ne usiamo una testa Questo è difficile 8 Uso Revial 36 il completismo Ma ci sta che In un gioco di macchine Sia tanto di più Da tra Questo era palese Era alto L'avrei già appuntato alto Poi devi farlo tu Moro Quindi non Non dico niente Beh ci sta 78 Eh quasi Dai dai Non è male Non è male Ci sta 81 Vai Killzone 2 Questo l'ho giocato Allora mettimi comunque Lo spread Che voglio capire Un attimino le proporzioni Allora Diciamo che il completismo È la somma Di questi due Praticamente Io farei 12 12 40 12 15 30 12 15 30 Dico io Se metti 12 Anzi fai così Fai 10 15 30 Dovrebbe essere 12 18 Se qui metti 30 No no Fai 10 15 30 Facciamo così Eh No Se fai 10 15 Quei è 25 Beh non è proprio Non è Ma io Non ma io Io voglio fare di più Per sicurezza Meglio Questa La mia spanna Esattamente In teoria È proprio La somma Di questi due È 25 Cioè se hai messo 10 15 Allora questo Dovrebbe essere 25 Sì Giusto E poi user rating Secondo me È 80 Perché comunque Come spara tutto Per la play Non era male Il 2 Il 2 secondo me Cioè non era profitto Eh ma Di più ho paura Che sia troppo generoso A me era piaciuto Tanto però Vado Vai Niente invece era meno Era molto meno Era Anche di voto Pensa Io non l'ho finito In quelle ore lì No Però avevi ragione No era 8 ore Ok sì sì Ok La somma è la giusta Avevo capito che era 18 fa 19 Vabbè Call of Duty War Da 2 War Era quello Per console Era quello Tra Modern Warfare E Modern Warfare 2 Mi pare Ah no sì Sì era quello No non era quello Esclusivo per console Era quello Nella scuola Io non ho fatto La trama di questo Vabbè la trama Sarà 8 ore Sì No può essere All'epoca era un pochino Più lunghe di adesso Può essere Può essere Main più side Ma qui conto Anche il multiplayer No non credo Eh no Cosa c'era Da fare in più Io questo non mi ricordo E fai main più side 9 10 E completismo 12 E poi Fai user rate Dopo mettiamo il pro Questa qua secondo me Era 85 Non era tantissimo E provo Fai la probe 85 è tantissimo Questi due sono più o meno giusti Il completismo è Abbastanza sbagliato Il rating è completamente sbagliato Secondo me il rating sarà 75 No allora lo alziamo il rating Fai tu Fai tu Io l'avrei abbassato Code sotto 85 Eh ma non era uno di quelli Boh non lo so Non lo so Non lo so 21 Devi decidere tu No Devi decidere tu Non può essere 80 Allora era effettivamente dopo Modern Warfare Era abbastanza un calo Dopo Modern Warfare Scendiamo Sì dai scendiamo 80 E lì completismo Completismo farei Allora a questo punto farei 20 Vediamo 20 Vado? 75 Infatti avrei dato 75 7,12 25 Io avrei detto Io avrei detto proprio 80C 70C Anche io Comunque bisogna ricordarsi Conta anche il multiplayer Il completismo Nel completismo sì Perché il completismo Eh gli achievement Sbloccare roba Quelle robe lì Carga fast Mi ha fatto peggio di prima XCOM Non l'ho ancora giocato Mi pare durasse una ventina d'ore Comunque Di storia Mi pare di sì Proviamo Non l'ho giocato ancora 20 L'anno del gioco Ve l'ho segnato un nome Ma in più side Fai 30 Sì Secondo me in questi giochi Completismo Sarà tanto Io faccio 50 55 Dai Ma secondo me Un'ottantina dai Il primo XCOM Era abbastanza Sì secondo me Un'ottantina ci sta Puoi usare qualcosa Lo spread sempre Ma è giusto più o meno Più o meno A metà 23 Sì ci può stare No io vado Sì ci vado Circa ci sta Io forse metterai 50 Eh dai Dai non è così Tanto in là Si può stare Ripeto Questo devo ancora giocare Sonic Mania Che cazzo Ne so Ma io non ho idea Neanche Sonic Mania scusa È quello 2017 Ma Sonic Mania È quello di Con i vari remake Sempre Fai riviala qua Fai riviala 9 ore Main plus side 7-8 ore 7 Io metterai 7-9 Ma secondo me è uguale Però secondo me è alto Secondo me è 9-9 7-9 7-9-20 Secondo me era uguale Main story 7-9 15 15 Sì comunque è un po' più alto User rating Di solito di Sonic Fa sempre cagare 176 82 invece Dai dai Avevo ragione io sui 20 Vedi Non ho mai giocato i Sonic Resistance 2 L'ho giocato all'epoca Però Nel 2008 Allora Secondo me siamo sui livelli Tra Killzone e Code Quindi stare sui 10 ore Grazie 2 chess Main plus side 12 O 2 chess Non so C'era il multiplayer Mi pare di sì Non ho idea Io mi ricordo di sì Facciamo 25 sempre su multi E 80 Facciamolo Secondo me non era così valutato bene Hai la probe Secondo me non era così valutato bene Secondo me Io avrei detto 70 O 72 Sì la resistance Non era Aspetta Punto di domanda rossa Non mi ricordo Punto di domanda rossa cosa vuol dire Vuol dire che sbagli di tanto Vuol dire che sbagli di tanto X Invece di tanto tanto Sì Farei anche io 18 E fai 85 Io per me è 5 in meno Invece Provo Provo Invece Ecco 3 Minchia Eh sì Perché mi ricordo che non era valutato bene 10-12 L'avevo proprio zaccato Eh sì Beh non mi piace Però è carino 200 punti abbiamo fatto Sto giro Però siamo ancora sul voto Per ora è il record 200 su 300 Dai Allora Quanto durerà Porca Quello vecchio Secondo me un 12 ore dura 12 ore durerà Allora Quanto durerà Secondo me è solo la main story Anche 10 10 Vado a vedere Faccio 10 Main più side In realtà di side Non ce ne sono C'è il completismo C'è C'è main più side Fai 11 magari Giusto per aumentare C'erano colossi segreti Non mi ricordo mica Metto Main più side Metto 12 ore E completismo Metto 15 Perché comunque c'era solo da prendere Il lucerto dei frutti Gibbo Vai a Un'altra parte dai Ma poi chi è che ti dice Ste Faccio probe Ok Non è che arrivava addirittura A 90 Shadow of the Colossus Eh non saprei Perché è un gioco vecchio I giochi vecchi Buono mi ricordo I 15 però Il giallo Quindi secondo me Varierà di 1 o 2 punti Secondo me Eh devi far tu Vedi tu E qua Vado di 89 91 era Era mannaggia Quindi era 10 10 12 12 21 4 Sì l'unico Era il completismo Che Un po' sballato Però ci sta dai Devo mandare in culo Frigitrice Un attimo Bene Vieni Clown Pagliaccio Vai Marco Che cazzo è Non so Non credo di averlo neanche mai visto Va fai Guarda Te lo dico io Fai 10 Ti faccio un reveal Marco Vai vai 8 ore Main più side Bene 5 Dici Secondo me No fai 6 6 dai Secondo me è un gioco in RPG Maker Quindi non ci sarà troppa roba Fai 6 7 8 10 Fai 7 8 10 Come 75 Andiamo Addirittura Ma dai Crepi la varizia 78 C'hai ragione tu Sul 5 ore 5 8 10 Beh quasi dai Dai eh Siamo a 157 Piunti Ciao ciao Draco Occhio che ti chicca il boss Il boss Il boss Nessun boss ti chicca Prego Liezzar Ho letto Annal Fai lo spread Sì Non che aiuti molto però Secondo me questa è una visual novel Verde vuol dire che il numero è entro il 20% più o meno Arancione entro il 40% E rosso entro il 60% Sì Allora secondo me questo qui Io farei 3, 6, 7 3, 6, 8 Se fai 3, 6, 8 ci sta A me sa di quelle avventure proprio alla C'è proprio avventure grafiche Tu farei 70 Sì sono d'accordo Anche meno forse Anche meno sì ma non lo so Fai 70 75 Eh dai 3 ore c'erano 220 più un ti eh Record Solid effort Record Record Suolid effort Vai Hanno 4 Non l'ho giocato Eh no sono nessun credito di noi Io ho giocato il 2 Io ho giocato il 2 Vabbè faccio io dai ci provo Boh durerà 10 ore Campagna Secondo me Ti avrei detto 12 Io farei Main più side Tu 14 C'è multiplayer 10 14 20 Farai 20 Anche 30 Secondo me No Sì sì Considera che su Xbox c'erano Su Xbox c'era pure la roba Userete con 88 Provo? Eh però non so Sì c'era un provo Pazzo Allora cos'è che mi ha scritto Luke? Allora rosso era 60% di scarto Secondo me completismo è 30 Più o meno Quindi vuol dire? Sì più o meno Ah secondo me Voto 82 E completismo sui 30 Secondo me Perché era comunque L'Xbox Con tutti i premi dell'Xbox Le cose dell'Xbox E in più c'era il multiplayer Scusa ma Se la main story È di 10 e 60% di scarto Vuol dire che è più lunga Perché non può essere più corta Usa è 4 ore Eh no non credo Sarà Secondo me Ma potrebbe essere 12-3 Eh no di più Eh non lo so Fai 15 Però cosa vuol dire il 60% Dentro il 60% Vuol dire che Fino a 16 Fai 15 20 25 Con le robe di 20 No fai 15 18 15 18 Bello 15 18 25 Ci può stare 24 Così Mi gira di più E user rate A sto punto più alto Andiamo a 93 Ma il 4 Ma 74 Te l'ho detto Te l'ho detto che era meno 7 ore 10 ore 29 Ma allora scusa Cosa vuol dire il 60% Guarda che era 30 Ci avevo preso Ci avevo preso anche col completismo Sì ma il 60% di 10 è 6 Infatti non so cosa vuol dire La percentuale Forse 60% è 30 sopra e 30 sotto Può essere Ah ok Bisogna considerare il range Sopra e sotto Ok no Perché se consideri il range Sopra e sotto Sono 3 punti E 3 punti Quindi Sì Allora ci può stare Sì bisogna considerarlo Ok va bene Adesso ho capito Ci può stare Marco Questo è lì giocato Questo qui come fai a dire La main story Quanto dura Scusami Allora però Che infinito Allora però Secondo me sono bastardi Perché loro ti dicono Tecnicamente lo puoi fare In questo In questo In questa durata qui Sono gli utenti Che mettono Loro in quanto tempo L'hanno finito Ed è una media Di tutte le Io ti dico Io ti dico 8 Perché secondo me Ci sono quelli Che li hanno fatti in 8 10 Non ci sono 10 Secondo me Sembra 8 Farlo uguale Farlo uguale Vabbè fai 8 10 Sulla rating Fai 78 Uso uno spread Un reveal Fai spread Bestia Il completismo è molto più lungo E tre volte La somma degli altri due Praticamente Fai 30 Eh sì Sì Una trentina Eh non voglio esagerare Eh vai vai 31 6 8 31 Perché te l'ho detto Secondo me Quelli là Trajardano Dai Non è andata così male Cosa c'è da completismo Scusa Cazzo c'è da completismo Eh vai a capire Devi farti le robe strane Uh questo l'ho giocato Eh anche io Ma Allora Io l'ho finito Ah beh ci sta Eh infatti Allora io l'ho finito In una quarantina di ore La trama principale E infatti avrei messo 40 ore Completismo Metterei un 100 Io 100 Sì O 90 o 100 Io farei 45 Io farei 45 58 90 Io metto anche io 90 Però le ore io 40 45 45 Sì 43 E secondo me Io ti dico Io ti dico anche 90 76 40 58 Beh sono stati bravi Guarda che erano 40 precise le ore 58 86 Sono stati bravi qua Dai Però Peccato Almost there Quanto è? 2.30 al record ancora? 2.20 Bloodstain Curse of the Moon Non l'ho giocavo Secondo me questo qui Durerà intorno alla ventina d'ore Io avevo detto 15 Ma non conosco Cioè Bloodstain lo conosco Di fama Ma non Certo quei giochini lì Ecco perché ci vuole così tanti Vai 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 su qua 8 Metto 22 I messaggi mi devi mandare l'int Nello spread 18 È il doppio In più side Però è più o meno No faccio così Faccio Se metto Se metto 16 Devo mettere 32 Cazzo ma c'era così tanta roba Su Bloodstain Come fa ad essere Sto scarto qui Magari è meno 16 ore Magari è meno Vedendo come l'hai fatto Qua dovrebbe essere 50 Completismo No Hai fatto 30 Man e side Sono 60 45 E anche 55 Quanto durerà il prossimo joystick Della play Sapendo che l'ultimo L'ho già lanciato Contro il muro Dall'altra parte della casa Concludi Dandoglielo dentro Alle gambe Draco Draco Non tirare le cose Che è pericoloso Ho sbagliato tutto Forse ragazzi Sì Mi sa che hai sbagliato Mi sa che è un DLC O qualcosa del genere Perché non era Ritual of the Night Eh no È un DLC È il DLC Questo Quindi non Eh durava tutto poco Maledizione A parte il loser rating Eh qua abbiamo già perso tutto Proviamo a riprenderci Maledizione La versione retro Marco Boh Fai 30 Eh sì Secondo questo Fai 30 40 Ma che è Prova così 30 40 Sì infatti 30 40 65 Voto 79 Usare uno dei Uti No Tanto Tutto una merda Starà Oh 79 Uno l'ho preso Perfetto Ma ragazzi Non l'ho giocato Eh ma cosa dici Eh ma A parte che era 20 Ho capito Giucciatelo allora Vai Devi ora l'ho giocato Questo qua Però fa gli Ezra Sia giusto Io mi ricordo Perfetto Fai il reveal Quello di prima Quanto abbiamo dato 15 ore Poi 15 E 25 Muserretto 75 75 65 Addirittura Io avrei detto Le stesse identiche cose Sì sì Io avrei esagerato In realtà però Anche forse il voto Avrei messo ancora meno Perché mi ricordavo Che non era apprezzato Soprattutto dai fan Questo Abbiamo fatto cacare Ragazzi Facciamo Next Marco vai Che cringiata Facciamo 8 8 Sì Dai Quanti ori avrà Sto cosa 12 Forse per delle scelte Magari c'è qualcosina Da fare in più Non lo so 20 18 Fai 18 Fai 18 18 No No Fai 18 Sopra E sotto fai 75 Insomma è tutto sbagliato Ma tanto Fai spread sempre Sono più o meno tutte simili Le durate Sì Ma si vai No che si vai Sono tutte simili le durate Si vai Fai 10 12 15 No sarà 10 12 12 Questo e questo Sono uguali A me sembra Leggermente meglio Completi Questa è un pelino più corta A me sembra più grande La rosa La funzione rispetto alla rosa Secondo me è 10 12 13 Guarda potrebbe essere 10 12 13 Secondo me è un po' di più la fucsia Vedendoli così Poi magari sono uguali Allora la fucsia è larga 14,5 cm L'altra pure La rossa Sono uguali Fai così 10 se non è troppo 10 se non è troppo Dovrà 10 9 Mette 9 Mi sembra molto più piccolo rispetto alle altre No non è molto più piccola Però non da Esattamente Vai 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 così 12 cm Quella lì Vai lascia così Per forza era un gioco più grande Era un'ora però Era un'ora Due ore Due ore Questi zoomer game non possono durare La gente si distrae Non era la metà A parte che era sbagliato La barra non era la metà dell'altra A parte che era sbagliato Ma come fa a durare un'ora È veramente un gioco per i bambini Di tiktok Sai che perché forse Qui non te lo fa vedere Ma forse Tipo 1,2 ore Sono stato Le ho sopravvalutati Chiedo scusa ragazzi Le ho sopravvalutati tantissimo Tra l'altro Ma magari il primo sia Un'ora e quaranta Divo non lo so Quattro punti hai fatto Marco Chiedo scusa Chiedo scusa Questo quanto durerà Durerà Super Mario 3D World Per Wii U Durerà 12 No Scusami 5 Sì sono quei giochi C'è il 3D World Poi era quello per 3DS Secondo me sei fuori strada Fai reveal Fai reveal Fai reveal A 9 ore Ma allora secondo me 12 ci stava qua Beh allora Beh sì dai Dai Facciamo di sì Completismo Metti che devi prendere tutte le robe Tutto qua Dei fare i record così E Mario ce n'è un botto Fai 30 Secondo me è una trentina Mario ce n'ha un botto Di ste cagate qui E gli userete alto? Sì Altro è per Wii U eh Metto 86 Sì 64 Vedi ti ho detto che erano più di 30 Guarda che Mario e le cose di Nintendo Ci hanno un botto di robe Torchlight 2 Quando mai abbiamo fatto la campagna di Torchlight È un diavolo like Sì l'abbiamo fatto Boh però non lo so Io come user ti avrei detto 78 Torchlight Qui allora Gli user 76 Secondo me Main story mettiamo 15 20 20 E 30 5 Sì sono d'accordo Secondo me fai le probe Per me queste qui molto di più Ok user rate siamo lì Sì User rate fai 77 Eh sì perché secondo me non era Era più vicino all'80 Che al 70 Main story Cos'è che Ranger al 40% Sì Quindi è circa 6 Io avrei detto 20 Torchlight Come trama principale Farei un po' più lungo Quindi andiamo a 18 No facciamo 17 22 22 22 E 40 L'ho detto che era 20 37 Ti ho detto che era 20 la trama Bravo Il user sì era 77 L'ho detto 78 Una storia in media dura 1 ora e 23 minuti Ma in più extra 1 ora e 44 Eh vedi quindi per quello Era più o meno No ma è veramente un gioco Per gli zoomerini Cazzovenio Lords of Shadow È il primo questo Della nuova cosa Eh Non era quello in 3D Lords of Shadow Sì 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 Assolutamente Ma io l'ho anche giochicchiato Fai 12 ore Secondo me è 12 ore La trama principale Fai farlo tu allora 12 ore 12 20 35 35 dico io Come voto Io dico un 78 Anche qui Se volete 35 Troppo Dici Fai 30 Il secolo 3D È andato malissimo Di recensionare Fai 75 E 30 Gli ultimi due Dai Credo Poi magari dico Una cazzata Magari non è neanche No ma anche io mi ricordo Che ha avuto varie critiche Io l'ho giochicchiato 76 29 Madonna 26 No 76 Eh vabbè Comunque Pensavo un po' di meno La trama principale Vabbè 59 Forza Horizon 2 Qual è che è uscito il 5 L'ultimo Ragazzi io non ne ho idea Io non ne ho idea Il secondo era andato male male Vedi Secondo di quello di prima Il compagno era 12 ore Main più extra 18 Completismo Beh questo io inventerei 45 C'è scritto sotto il nome Dell'anno d'uscita Quando indovini immagino Ah no 2014 è vero C'è scritto lì Sì Sotto l'è il nome Eh Ah è vero Non ci ho guardato prima User rating Questa sarà alpino Sarà un 84 Credo Boh io questo proprio sparerei a caso Spreddo È più o meno dai No forse ecco Forse main story Main più side è un po' diverso Il da Sotto me invece Thunder è regalato a Luke Grazie Tanderone Grazie Thunder Metto così 100 Il cazzo proprio Eh ma perché se erano tutte le robe Macchine a sbloccare Tutte quelle robe lì Abbiamo fatto gaccare Pet pet Questo cos'era? My friend Pedro 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 7-8 ore 7-8 ore Così po' Fai ripigliano un attimo Non è 1-2 però 3-3 3-5-7 Grazie la cinzia Grazie cinzia 75 Io avrei detto 80 invece Anche io avrei detto 80 Io avrei detto anche Io avrei detto anche di più di completismo Però non lo so Metto Beh era più basso E l'ho fatto cacare comunque Sì Stavolta proprio Almost words Ho fatto cacare Metto la slight redux La slight è il Io non l'ho L'ultimo Il secondo Ah sì Questo l'Ezzaro Hai letto anche i libri Vai Quanto durava l'Ezzaro? Eh metto Durava una quindicina d'ora Non ho così tanto Sì Io avrei detto una decina d'ore Beh fai 12 Secondo me il completismo è più alto Oh di side quest ce n'erano Io avrei Io farei Tipo 10-15-30 No 30 al completismo no Eh guarda che c'erano segreti Cose Anche fuori Ah beh Siamo messi Di esplorazione e roba Ma di completismo Non c'erano Collezionabili Robe Fai lo spread Eh guarda lì Guarda Cioè è la somma delle due Sì è la somma delle 8 Le altre sono molto simili Le altre sono molto simili Farei 12 Sedi No 12 12 12 12 14 E 26 Proviamo a voto Questo qui secondo me Un 80 85 79 89 80 Oh ci ho preso quasi Ne avevo detto 10-15-30 Ne avevo detto 10 ore Che bello metro però L'altro sembra Dalla copertina Come è messo Cioè c'ha le gambe Qua non c'ha la busto e culo E in Asian squat E in Asian squat A proposito ragazzi No non è a proposito Non ce lo voglio adesso Next round Papers please Vai Moro diverti Ma che Marco Hai fatto solo tu Ma questo è lungo Come Non è lungo Cioè allora Completismo sicuramente sì La main story Credo intenda Completismo potrebbe essere Anche su 50-60 ore No Perché di roba da fare Ne hai comunque Sì vabbè Ma non è così Allora Secondo me Main story Sarà 3 ore Una run Durare Non mi ricordo bene Però Main più side 10 Provare a fare Metti Fai 3 run diverse Completismo Metto 20 Cazzo qua mi serve Allo spread Però User rating Io questo proprio Non so Il completismo Mi sa di qualcosa Che sono ore Faccio un reveal Mi sa Non so se fare un reveal No faccio il probe Cazzeropoli Beh come rating Ci sei Metto 4 4 Ma non è che Ma a me si va di più Non è di più Scusami Così poco Eh Sì Vabbè la run Ok Sennò Se no Preferò fare 2 7 No però è giallo Faccio 2 8 17 5 ore C'ho ragione Ad andare più in su Mannaggia Non è andata male Comunque No Vai The Legend of Zelda Il primo per il NES Il gioco per il NES Non può durare più di 7 ore Io avendo 7 ore Ma che cazzo dici Ci stava sulla cartuccia No Dici che è troppo Secondo me è troppo Fai 5 Non lo so poi Però secondo me era troppo No io avrei detto A me anche 5 ore Era un tante Fai 5 5 6 6 Beh E completismo Qualcosina c'era da fare negli Zelda Dai 8 ore 8 8 8 Come voto Io ti dico Un 85 Secondo me dura 2 Massimo 3 ore Può darsi 8 ore 8 ore 8 ore Quindi Main più side Un po' durare Vedi c'ho la ragione Marco Main più side Fai 9 Completismo E 10 10 8 9 10 E 85 Almeno di voto Se no gli spacco la faccia Sti bastardi 75 75 8 ore 8 ore 10 Cioè questi qua Hanno messo 75 A primo Zelda Andate a giocare al giocherino degli zoomer Una volta ci mettevano i voti veri Tocca a care ragazzi Ma nonostante tutto 208 Abbiamo fatto Questa sarà quella giusta Marco vai Il primo Splatoon Vai Main story Ma la storia c'era Nel primo Sai che non c'ho qualche dubbio io Infatti quindi sarà 3 Io farei 3 No vabbè 3 ore Era comunque un gioco che andava sulla Switch Cos'era lì? Non era la Switch Però vabbè Non era Era sulla Wii No 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 era sulla Era sulla Wii Sì sulla Wii Io farei qua No allora 5 Almeno Completismo sarà 60 Almeno 50 Almeno 50 Sarà Splatoon Io ti dico Siccome Nintendo Ha un 78 79% Almeno Spread Probe Reveal Mi sembra un po' sprecato Però fai Fai spread Fai spread Direi che è tutto sbagliato Ma Sì Allora facciamo così Fai 5 15 E 50 Lo lasci No forse 5 sarà 10 5 10 E non è 50 Sarà 30 No non è 10 Un po' di più Fai 12 Quello sarà 30 Giù 50 non è sicuramente Non è Solo il doppio Il primo è 6 cm L'altro è 13 e mezzo Quindi 13 11 Dico 11 12 12 E quello vabbè Fai 30 Tipo 35 30 12 5 Fa 17 No sarà 17 No Sarà 25 25 25 Ma che 17 Moro 20 20 22 Allora Se qui 50 non è di sicuro 20 cm L'altra quant'è qua 21 Quindi E allora fai 18 Secondo me è tutto sbagliato Anche secondo me è tutto sbagliato Perfetto Perfetto quasi Ragazzi Degli ingegneri Degli ingegneri Per uno non abbiamo fatto il perfect Però Good job Andiamo avanti Questo è l'ultimo O il secondo Non mi ricordo più Questo è il secondo Questo era criticato Allora io ti dico La storia è una decina 12 10 12 No No Anche duravano Secondo me Fai 25 Allora 25 No dai Più di 25 Non ci credo Che facevano la media Di tutti i giocatori Più di 25 Quanto caspita ci mettevano Eh Ostia Mettici bambini E non bambini Dai Secondo me Perché dura un pochino No ma vabbè 25 mica è poco 25 mica è poco Insomma tra le 20 e le 30 Sì fai 25 Fai Fai reveal La vediamo No vediamo reveal 61 Vabbè main più side Vabbè ci può stare 35 ragazzi Cioè Però completismo No io non sono d'accordo Il completismo No è massimo 3 Il completismo è completare il Pokédex E che side ci sono Allora secondo me È al massimo 30 Che side quest ci sono In poco E vabbè tutte le robe Tipo le rovine Segrete Eh ma quello non è completismo No quello è main più side Può essere Beh ma anche il Pokédex Ragazzi ci vuole un altro Nel completismo ci sono tutti i cosi Secondo me è un centinaio di ore Per il completismo E il completismo metti 100 90 Sì metti 90 Secondo me la main story Più di 30 non è Secondo me sì Guarda che era Bello pregno di roba Cioè dopo la liga C'era anche tutta la roba In proprio un bianco e nero Non lo so perché Percentuale Sotto l'85 non si va Quindi Eh Eh Allora perché non so perché Dal pubblico è stato accolto male Ma dalla critica Ah user rating Questo è vero Non è la recensione Eh fai 80c No quanto è che puoi fare Quanto puoi ammettere Da 0 a 100 Non saprei Ah no pensavo ci fosse un indice Però ti va adottare qui E magari No 80 Io metto 82 32 Se sono 160 era Però 82 ci ho preso Così tanto Il cock rating Dai più o meno C'eravamo dai Eh va bene Ma a 160 Se devi Eh o se devi far tutto Eh o se devi far tutto ci sta E lì non li vedi Però possiamo battere Il nostro record Se facciamo Una bella Puoi scambiarli pure Quindi No no ci sta Che sia tante Completi No sono stati bravi Comunque De Pedestrian Gli Ezzardai Non ho mai giocato Non so Non so Qui era quel cazzi Platform Sui cartelli stradali Eh no Di solito Platform Se è come Mirror Sage Sarà 5 ore Tipo No non è come È quello sui Cioè tu sei il pupino Questo qui Eh ma non potrà durare Sì 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 Ho capito Secondo me non dura Cioè durerà 3 ore 4 ore 4 ore 4 5 Io farei 3 3 5 Io farei 4 6 8 Proviamo a vedere 4 6 8 E poi usiamo La proba E aspetta User rating Bo 75 Mmm Io ho detto 80 No 75 In realtà ci può stare Sedi con un 78 Fai 75 Vediamo tanto poi Col probe E 78 Grazie Gianfa Grazie Gianfa Il primo è 4 ore giusto 6 ore È abbastanza sbagliato Sbagliato però Fai 5 Di 2 punti può essere Io farei Ah di 2 Allora sarà 6 No è di 2 Diviso però Sì 7 o 8 sarà A meno che non ci sono Side quest Quindi è 4 Quindi può essere 4 Side Quello di Lost Però il completismo È completamente sbagliato Quindi vuol dire che è 4 4 4 Magari 4 4 5 Può essere Fai 4 4 5 Fai 4 Fai 4 Fai 4 4 4 5 E E' quello lasciarlo Così 75 Non lo so In un platform Così Non ci sono livelli segreti E robe del genere Secondo me è 76 Io vado per Io andrei per Cosa faccio Vado Vai vai Ah era sopra Era veramente 4 4 4 Vedi 257 Record Record A me mi fa Troppo ridere La voglio come emote Ragazzi E poi è totalmente sbagliato Anche col personaggio Posso metterla come emote Al posto del Di quel pepe lì Del novabè Qual è? Quelli che ho messo Valerio Oh questa Top run Comunque 257 Top run Ti metti Cosa scaricata Magari c'è già su 7TV Non lo so Ma mettila anche come emote Nostra Tanto abbiamo posti Grazie l'orgio Grazie l'orgio Cioè abbiamo 16 posti animati Possiamo Ma tutte quelle di 7TV Molte le puoi spostare Nelle nostre Perché molte sono Il pepe E robe così Sì no Però alcune le puoi spostare Volendo Tanto abbiamo slot liberi Ma molte le ho già spostate Effettivamente Sì sì no Però La trabbiamo Ecco Quello per switch Marco Questo l'hai giocato tutto Quindi dimmi Non è quello Che ho giocato io Eh Marco Che Nintendo Del cazzo Che sei però E io farei un 8 ore Però questo La trama principale Secondo me 8 o 10 Mi sentirei di dirti 8 Hai 9 9 così in mezzo Ma in più side Fai una quindicina Completismo 30 Io ti dico 15 30 Io 30 Perché i giochi Nintendo Quelli di Mario Soprattutto sono pieni di robe Rating Ti dico 78 Cosa faccio Fai sempre spread Beh ci sta Più o meno Forse anche 35 Guarda No di meno Devi mettere Completismo Un pochino di meno Se vuoi tenere così Un pochino di meno No perché scusami Perché dovrebbe essere La somma di ste due No 15 più 9 Fa 24 Io metterò 25 Completismo A questo punto Mettiamo Beppe Beppe Era sui 30 In realtà Beppe E perché Non ho più altro E perché era 17 Questo Sì 72 Però 72 L'hanno criticato Effettivamente In questi giorni Andrò alla 5 terre Pioverà Cioè Andrò alla 5 terre Pioverà Il tuorlo della mela Fa male Il tuorlo Sembra il tuono Quindi Non so se hai previsto A pioggia Hanno detto che Dove venire Il tempo Wind Waker Wind Waker C'ha almeno 83 Anche sabato Ma che rottura di coglione Mi hanno detto che doveva essere bello Sto weekend A me domenica torna al caldo Domenica Sì è decente Allora domani è Decenti Io metterei 83% Circa Inizia a piovere domenica Piove sia venerdì Sì a sabato Che rottura Potrebbe anche avere di più Vabbè Da Wind Waker No lo so Però cavolo Di quelli che sono piaciuti di più No sono d'accordo Però Cavolo Vabbè Comunque Allora Completismo Secondo me Siamo sui Quasi Fai 90 Secondo me C'era un botto di roba C'era Eh ma c'era il mondo Tutto esplorato Con la barca Eh lo so Ma guarda che c'era tanto da fare Sì ma 90 ore Sono persone Fai 70 No 70 Completismo Dico Moro Eh Mica la storia Dicevo il completismo No secondo me Tipo il completismo Sarà tipo Una sessantina Vabbè Da 70 a 60 Non è che cambiamo Io metterei 20 40 a 60 No tra 20 Cioè tra Main Story E Main Pusside Il doppio Secondo me è tanto No il doppio Non lo so Perché allora Io avrei detto Questo qua come storia Avrei detto 15 20 Io avrei detto 15 20 25 Secondo me Completismo è sui 70 Continuo a dire Allora fai 35 Faccio 38 Io Faccio 38 Ascoltiamo Marco Facciamo 70 Io ti direi più così Vedi che era 42 Mannaggione L'altro non era giusto Ma il resto abbiamo Sì no pensavo molto di più E io ovviamente Non l'avevo fatto completismo Di solito Di solito c'è più roba da fare Ma è Zedda Non è un Zedda È un capito Però Ma non è vero C'è una Zedda È così lungo È solo gli ultimi due Sì Ma gli ultimi due Ma è che questo Avevi la barca Andavi in giro Ho detto Boh magari c'erano isolette Cose da scoprire Gli ultimi due Fan cacare Semplicemente Tu fai cacare Persona 3 Dancing Ma è tipo un DLC O si chiamava così Questo è il 2018 Il Rhythm and Game Rhythm and Game Faranno 3-4 ore Quanto sarà Fai prob Eh no Saranno 3-4 ore Fai 3-5-10 Domani Dovrebbero andare I mezzi a Milano Sì Domani vanno Il primo maggio Che non ci sono Ma domani è festa Però comunque Sì faranno un orario festivo Occhio che c'è Lo shoppero venerdì mattina Dalle 8 e mezza Alle 12 e mezza Occhio Persona Rhythm and Game Moro Cioè qualsiasi cosa facciamo Non Ci sarà Che a caso per forza Qui qua può essere Un 4-5 Domani vanno tutti Gipo Semplicemente avranno L'orario festivo 5-7-13 Potrebbe Da dove vedo Che cosa vanno C'è un sito Dell'ATM Gipo Esistono i siti Ufficiali No Vabbè perché non era Domani non saltiamo live Per queste feste Praticamente noi saltiamo live Solo a Natale E Capodanno Praticamente Era 12 ore Quei mortacci E che aveva detto Io pensavo Eh infatti Io pensavo Sero due punticini Tre punticini Vabbè Ma che gioco è Ma Perché c'è anche solo Il Cos'è Mai sentito Interactive art Mi sa di quei giochi Durano pochissimo Però questi qua The Big Reader's Guide No L'aveva fatto carino Forse Mi spiace un po' Ma non ci fa Secondo me durano sulle tre ore A maggior ragione Se l'aveva fatto carino Non mi ricordo The Big Reader's Guide Che cazzo di gioco era Da 12 ore a giugno L'aveva fatta Ah era quello di Stelli Parable Ecco perché lo conosco Ora vediamo se inizio Fine giugno Ma comunque a giugno Boh Mi sa di quei giochi Che dovrò un po' Sì Più di quello Non saprei cosa mettere Tipo The Stelli Parable A punte A punte Cos'è succede? A punte A punte A punte A me sarà tipo un'ora Due ore Tre due due tre Non so Ma con il predismo È di più Uno due tre Ma vuole Il predismo è cinque Ma sono pazzo Qui è settantotto Boh Questo veramente Non saprei Questa Ma vabbè Probo Ma Gibo Basta che fai sul sito Della TM Due ore Come fai a essere rosso Due ore Grazie giureppe Due due quindi Due due A sto punto Potrebbe essere Due due Sì Qui è quasi giusto Settantotto Può essere Settantanove O Settantanove 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 Poggers Mamma mia Poggers Questa topperia Poggers Ebbè Quando c'è una menore Forse è anche più facile Da capire Pogopoli Ragazzi Vai Gli Ezzar Vai Gianluca Non l'aveva provato Gianluca Perché è un ricordo Che l'ha provato Gianluca Questo Boh ma anche questo qui era Io avrei detto Sei ore Che vi sei sette Sì Sì Questo è quello VR E quanto durerà VR 5 5 5 Dalle cinque Alle sette ore Allora fai 4 5 7 Valutazione Non so Perché Io 78 avrei fatto 4 5 7 4 5 7 No Non è così Non è il doppio Quasi Se me è 5 5 5 7 5 5 5 7 5 5 7 No sì Può essere 4 5 In realtà Perché sono Dici sono diverse Questo è un pelo più lungo E allora lasciamo 4 5 7 E poi io ti direi 78% Perché comunque è un nome che ho sentito spesso Io farei 75 Eh no lo so 75 No Oh però li abbiamo presi tutti sopra Pazzoidis Oh qua si può fare il record eh Se facciamo bene Eh sì Vai Marco Che Marco non mi è mai andato il gioco Sono l'unico Quindi Non gli è mai andato No 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 Questo è l'uno eh Sì comunque anche il primo Non l'abbiamo mai provato questo No no A voglia Destiny 1 era solo su console Eh Se ne avevamo più 4 noi eh Ma non l'abbiamo mai giocato A voglia se ne avevamo mai provato Io non l'ho mai giocato Perché era su console Ti assicuro Lizard DC Io ho fatto 3 volte Io ho fatto 3 volte L'inizio del 2 E comunque questo è enorme Se consideriamo che tutti di DLC è tanto Io farei almeno una ventina Di trama Ci può stare E non lo so se considera anche DLC Eh sì No Beh in realtà noi DLC dovrebbero avere La loro pagina Vediamo le viala 70 ore di main più side Ma non vuol dire un cazzo Una quarantina ce l'avrà almeno Per avere 70 di cose Sì Buona quarantina Tutta 40-45 E come completismo Metterei sui 200 200 Sì Sì 85 No dai Era una bella novità 82 fai Sì Mi ricordo che era molto molto criticato Ma infatti io avrei detto Se me lo chiedevi a me ti avrei detto 80 Per non esagerare Però Se volete fare una media di quello che avete detto 82 Provò 73 Guarda che ce l'aveva preso Valerione La campagna 12 ore Maledizione Valerione ce l'aveva preso 500 di completismo Vabbè ma questo Sarebbe impossibile Era proprio Completamente Ma poi non mi ha mai funzionato Maledetto Lui è il cabage Maledettissimo Veramente Dove ristallare il 2 Allora Dai facciamo l'ultima run Mi saluti Circa Eh non è male Quando finiamo presto la mattina Possiamo fare questo Non lo so Non lo so Da Franci mi sa Non l'ho mai provato Oh Allora Non erano tante ore No questo no Soprattutto perché Pikachu del cacchio Ivi Erano Totalmente Buggati E shottavano Qualsiasi persona Con qualsiasi Quindi secondo me Ti dico 12 10-12 15 15 Comunque non è conto E comunque pokemon Devi farti tutte le cazzo 15 15 dai 15 Cioè per me anche 20 Sarebbe No Questo 25 In più size Ed fai tutti Parli con tutti Eccetera Una 25 Quina di ore Cioè per me 20-30 Non è le zgotsky Pokemon Per me 20-30 70 Tipo 20-30-70 No Non è così tanto Differente 20-30 Io avevo detto 15 15 15-20 20-30-50 Ci può stare Con la divisione Secondo me non è a 20 ore Marco Tieni conto Non sono le 40 Di un pokemon normale Ma Erano veramente rotti Loro 50-50 Forse un po' di meno Di 50 Non è andato Cioè No questo in realtà Non è andato male Sì ma neanche bene Io ho 80 Non era un gioco di Eh forse un 80 Anche perché era quello Che introduceva i pokemon Fuori dal Quindi è 80 Forse farei 82 Io Secondo me 20-30 Ah Era ancora di più Addirittura 25 Comunque devi pensare che Ti devi fare tutto Il giro di tutte le palestre No ok Vabbè il resto Sì il voto 73 è un po' troppo ragazzi Soprattutto in ottica Gli ultimi Era veramente divertente Aveva anche delle belle animazioni Eccetera Ma infatti probabilmente Gli ultimi magari hanno 50 Devi contare che non è un gioco Di Mainline E quindi non lo valutano Allo stesso modo No capito Ma 73 è proprio ingiusto Secondo me No ma sono d'accordo Cioè Va bene criticare pokemon O perlomeno Se a questo li dai 73 Vuol dire che gli altri Dei dare Sotto Sotto Il 60 Infatti spade e scudo Per me sono da 30% Se me lo chiedi a me Io ti dico 40% Tu massimo E torna Quanto era ragazzi Cos'era 12 avevi messo Con tutti i giochi che ci sono Come fanno ripese Scusa Non mi ricordo ragazzi Cosa avevo messo Con tutti i giochi che ci sono Passatemi la clip Per favore Dai non mi ricordo Non è possibile Adesso poi Pensa se adesso Faccio una roba Completamente diversa Da prima Io 12 L'avrei detto 10 Ciao Gianluco Alla fine arrivi Anche te Maledetto 13 Giallo mi deve Domani mi arriva Il fumetto Mi sembra Sì 11 13 88 Eh ma arriva Night Fever Comunque Ok era 10 Eh o 12 O 10 Eh sarà 12 10 10 Non c'erano Side proprio No 10 10 10 12 Dopo tanto ne parlerò Tanto farò la live fumettistica Ragazzi e vi parlo di tutto Era 91 E' vero 21 ore Brambilla The Mountain King Mi fa ridere Non so perché Brambilla The Mountain King Fai riviala Vediamo 5 euro Beh sarà 3 Secondo me è uguale Secondo me è 5 5 5 In punto 5 5 Niente Non ha niente di extra E il 70% No no Sì Non è brutto Non è Non dovrebbe essere brutto E' uscito Qualche mese fa 75 Non di Sì Vedere anche a voi A Monza hanno fatto un sottopassaggio Per andare in centro 5 5 Sotto passaggio Per andare in centro Hanno fatto questo Hanno fatto 3 cose di Dragon Ball sul mondo Goku senza naso Vabbè Ma andagli a uno Nel gruppo dei sub Sì dopo Se siete di Monza O quelle zone Lì potete andarlo a vedere Comunque è carino Sì è carino Secondo me lo possiamo fare La mattina Ci sono 3 modalità C'è la daily Che Facciamola Little Nightmare Dai giochi di oggi Questo durava Forse una decina Ci arriva No forse meno 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 Sarà Quanto sarà E beh qualche live Mi ricordo Qualche live La gente la faceva Su questo 4 ore 4 ore 5 ore Rating 78 Io avrei alzato tutto di 1 Fai lo prob 4 ore è giusto 5 ore 4 5 7 7 Mi si che è 78 Le zate Sì Pozzuoli sfemili Ragazzi 90 Super Mario Odissi Allora Il completismo qua è tanto Secondo me è solo a 60-70 ore Per fare tutte le lune Era difficilissimo Ma sì Marco Io ti dico 70 ore Le lune 70 ore su Mario Eh guarda che questo qua Dovevi fare tanta roba Dovevi fare tanta roba Non dico 100 perché no Quanto dura la campagna? Quanto dura la campagna? Allora io ti dico quanto Ti dico quanto ci ho messo io Io ci avrò messo un 25 ore a farla La campagna 20-25 ore Metti 25 ore Se sono 70 25 lì vuol dire che il completismo è più di 100 Molto di più Fai 20 Fai 20 20 20 L'azzurrino ci sta 5 volte dentro 20-30 Io ti dico 20-30-70 20-30 sarà 60 questo al massimo Ma non può essere 20 la main story Cioè guarda quanto ci sta rispetto al resto 7-8 80 ci sta Se queste 20 Questa è 40 Ma secondo me è 80 Ragazzi io vi dico dura tanto il completismo Il doppio Ma è di più del doppio No è il doppio Guarda Misura col metro Vediamo un po' Ma sì che è più del doppio 5 cm il blu 11 cm il viola Quindi Io vi dico Secondo me il completismo è dagli 80 in su Per me è dagli 80 in su Per volendo lì è 50 No 20-40 No sarà 45 No sì scusa 4 44 Vabbè Sì Per me è meno di 80 Non è ragazzi Io mi ricordo Qui è 76-80 75-70 Fai 80 Per me è anche di più però 6 No per me è notico La barra non mente Eh ma allora abbiamo sbagliato gli altri Perché per me era più lungo il completismo Però proviamo No ma di conseguenza voi Usarete il minimo 90 Sì questo secondo me Sì era 93 Secondo me era tanto il completismo Vai 62 Era molto meno tu 90 Pezzo di merda Non è vero niente Marco sei uno Non è vero niente Guarda io ci ho messo Io ci ho messo almeno 20 ore E per fare il completismo ci ho messo almeno Per provare a farlo Vergogna Ci ho messo almeno il triplo Vergogna Due settimane 12 12 Però poi il completismo è tanto Sì Main più side sarà anche 25 Secondo me Fai le via Aspetta fai le via Tanto Eh vabbè Non ci serve un cazzo Beh robe da fare ce n'erano intorno 35 Metto 30 Main più side se fai qualche secondaria User rating 70 75 Fa cagare Secondo me è anche 80 Sì è anche 70 Questo Pozzuolis Eh campagna trova così tanto Non l'abbiamo proprio lasciata di brutto Mamma mia Che casinica Sì ma 24 Ore Sono 12 live Abbiamo fatto Di più Forse sì No sì forse 12 live ci sta Può esse Può esse Sì Vabbè dai Vabbè dai dai Il record è 2.57 era? 2.57 forse sì 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 L'altra modalità che c'era Cos'era? Perché non c'era altre modalità Vabbè non mi importa Boh Vediamo Ma ogni tanto la facciamo Anche questa qui Se finiamo presto Posso rifare l'alba Sì sì Dai Vediamo da gatto E ci vediamo domani mattina Con Aerotrack Che potete giocare anche voi Mi raccomando E domani sera Con forse un gioco nuovo Se no Gio Gesser Per i giochi Vediamo se ci danno le chiavi Se no Vediamo come si è messi a chiave Se non c'è niente Facciamo Gio Gesser Quello di domani sera Non è nel Game Pass Quindi lo posso giocare Però quello di domani sera Qual è sicuro Per venerdì Dobbiamo un attimino vedere Come siamo messi Per gestirci Con gli orari Ciao belli Ciao ciao Un saluto